bravo 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 andiamo, vediamo la torta 3 2 1 3 3 bravo come nelle commedie agli 80 bravo come nelle commedie agli 80 bravo ma non è neanche partita eri lì solo a aspettarla eri lì Stefano Corti nato il 18 luglio 1985 festeggia oggi il suo 39esimo compleanno la serata è stata l'insegna della felicità con la presenza di sua moglie e dei suoi amici più cari tra risate a bracci e la tradizionale torta in faccia l'armonia ha regnato sovrana la carriera artistica di Stefano inizia nel 2005 come animatore nei villaggi turistici un'esperienza che lo avvicina al mondo dello spettacolo nel 2010 decide di formalizzare la sua passione per la recitazione iscrivendosi alla scuola di teatro arsenale dove si diploma nel 2012 subito dopo entra in contatto con la redazione delle Iene diventando parte del cast nel 2013 qui interpreta vari ruoli come l'ello l'amico dei calciatori, il tuercatore e l'infiltrato nel 2014 partecipa e vince Pechino Express insieme ad Alessandro Onnis con cui poi diventa inviato per le Iene dal 2015 nel 2016 conduce Ridiculousness, Very American Idiots e gli MTV Awards Social Party nello stesso anno con Onnis è protagonista di Last Cost su MTV un programma di viaggi nel 2016 Stefano sostiene il progetto Gli Angeli per l'inclusione sociale dei ragazzi diversamente abili dal 2017 continua a condurre Ridiculousness e presta la voce per Feel Factor partecipa a Bring the Noise e nel 2018 conduce il comedy central tour sempre nel 2018 diventa speaker per RTL 125 ruolo che mantiene nel 2019 dopo quasi un decennio Stefano è ancora un inviato delle Iene confermando la sua continua presenza nel panorama televisivo italiano Grazie a tutti